Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata storica per il goloso mangiarsano perché la ricetta che vi stiamo per mostrare è decisamente diversa dal nostro solito. Si tratta infatti di una frittura ed è anche giusto non demonizzare troppo questo metodo di cottura che ogni tanto si può mangiare assolutamente in tranquillità. L'idea che vi diamo oggi è davvero davvero gustosissima e si tratta del tofu fritto. È una ricetta facilissima, servono pochissimi ingredienti e viene buonissimo. Questa è un'ottima idea per quando volete fare qualcosa di particolarmente spizioso e gustoso per voi stessi ma anche se avete da fare una cena con degli amici e volete fare qualcosa di originale. Vi lascio quindi subito alla ricetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.